Musica Sono stata ieri al Bike Festival di Napoli, dove c'è tutto quello che riguarda il percorso in bicicletta per sostenere il progetto sui percorsi cumani. Percorsi cumani che dovrebbero iniziare da Bagnoli e dovrebbero arrivare sulla linea di costa fino a Monte di Procida. Un percorso magnifico, bellissimo, che toccherebbe non soltanto forse una parte della città metropolitana ancora non turistificata, ma che ha sicuramente in sé tutte le caratteristiche per essere una delle mete migliori, una delle mete scelte dai turisti che vengono a Napoli. Ecco, come città metropolitana in che modo possiamo collaborare e contribuire a questo progetto? Nel progetto strategico e quindi nelle azioni della città metropolitana si può sicuramente inserire questo percorso. Corrisponde praticamente a tutti i criteri, i criteri della vivibilità, i criteri della diminuire il percorso su gomme, i criteri del verde e dell'ambiente, ma soprattutto risponde al criterio che la cultura, i beni archeologici, i beni monumentali, i beni culturali costituiscono il corpo, la struttura ossea della città metropolitana. Grazie a tutti.